Otto donne, otto uomini, persone sia di partito che espressione del mondo delle associazioni e anche due assessori uscenti. E questa la squadra che affiancherà il sindaco uscente di Carmignano, Edoardo Prestanti, nella corsa albissa alla poltrona di primo cittadino del comune Mediceo. Ieri pomeriggio, nell'ambito della festa dell'unità, c'è stata la presentazione ufficiale dei candidati e del programma elettorale sostenuto da PD, Rifondazione, PSI, Sinistra Italiana e Europa, Sinistra Civica Ecologista. L'obiettivo è quello di portare avanti il lavoro, gli sforzi fatti in questi cinque anni, quindi proseguire quella rivoluzione ecologica iniziata cinque anni fa, restare sempre più vicino alle persone che soffrono, che sono in difficoltà, ma anche avere la forza di proseguire su quella strada di promozione della cultura e del turismo locale. In lizza con Prestanti alle elezioni del prossimo 4 ottobre ci sono Angela Castiello con la lista centrodestra per Carmignano sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e quella dell'ex presidente del Consiglio Comunale Belinda Guazzini con la lista Senso Civico appoggiata esternamente da Italia Viva, Azione e più Europa.